Come è il dibattito di domenica? Sicuramente io concordo la lettura che noi abbiamo dato quando abbiamo costruito le manifestazioni subito nel febbraio di quest'anno, il primo striscione che facemmo, mi ricordo lo discutemmo in assemblea di Caracol, prima della manifestazione era né con la Nato né con Putin, poi divenne contro la Nato e contro Putin. Qui siamo di fronte a una guerra che sembra non lasciare spazio a una dimensione diversa. Ed è proprio secondo me nell'intervento di Tony Domenica molto centrato questo discorso di costituirsi di nuovo come una pratica capace di indicare un altro tipo di percorso. Cioè di fronte a questi due vecchi pugili suonati che si prendono a pugni su un pianeta che è dentro la catastrofe, perché quello che stiamo vivendo dal punto di vista climatico è indice di ormai siamo dentro questa fase, non siamo più nei segni anticipatori di quello che è successo quest'estate nel nostro paese, quello stesso nel mondo, le alluvioni, il fuoco, diciamo sempre domenica Gazprom che esplode, milioni di litri di metano proiettati verso la biosfera. Di fronte a questo noi assistiamo a quello che è non solo un gioco di geopolitica, di dominio, di imperialismi che si scontrano, ma effettivamente anche di dominio delle risorse. Quella grande partita che si è aperta, Andrew diceva qui stiamo assistendo all'allargamento a NATO all'est che ha provocato una reazione. Poi, adesso attenzione, noi con grandissima forza diciamo qui non c'è una parte dove stare, ma c'è chi sta giocando, chi fa una guerra d'aggressione, c'è chi fa una guerra per conquistare altri territori e per cui rifiutiamo e attacchiamo pesantemente anche quelle parti rosso-brune del movimento che invece teorizzano come dire che quello che sta succedendo è una guerra di liberazione antifascista eccetera eccetera. Ma è chiaro che quando Trump disse voglio comprare Agroellandia, oppure la dominio dei territori destinati a decongelarsi per le enormi quantità di combustibili fossili che andiamo a trovare al loro interno. Ma lo stesso, e poi ce lo dirà Mazzeo, la stessa Africom che ha sede a Vicenza, che era una parte di un progetto coloniale degli Stati Uniti per conquistare militarmente e politicamente i territori dell'Africa, doveva avere risorse, lo vediamo adesso cosa vuol dire, perché gran parte degli approvigionamenti, per esempio di gas, su cui conta il governo italiano in questo momento, provengono dall'Algeria, provengono dal Nord Africa. Quindi ci sono tutta una serie di guerre, combattute e non combattute negli ultimi vent'anni, che sono guerre per accapararsi le risorse. E dentro la crisi climatica globale, nella quale qui non c'è nessun tipo di prospettiva di transizione ecologica, nella quale andiamo verso un altrove che è fatto di una riconversione ecologica, un abbattimento entro il 2030 delle emissioni. Qui si pone il problema, in questo momento qua, di utilizzare tutto quello che esiste, di accaparrarselo. E questa cosa, secondo me, è molto interessante, che abbiamo già detto nei mesi scorsi, sulla questione del grano, delle risorse alimentari, di utilizzare le carestie come guerre. Cioè, torniamo, in qualche maniera, a quello che viene detto anche in questi giorni, che comunque stiamo dentro uno sistema di guerra mondiale, da questo punto di vista. Quello che manca, e quello che noi non siamo stati capaci di fare, anche se ci abbiamo provato timidamente, ma come diceva Tony Domenica, forse troppo timidamente, è rimettere al centro i movimenti dentro questo tipo di orizzonte. Cioè, noi stiamo guardando, un po' inebbettiti, i giornali, i telegiornali, le radiogiornali, che ci dicono che qua stanno distribuendo le pillole di iodio a una gran parte della popolazione ucraina. E questa cosa, che in altri momenti avrebbe scatenato proteste di milioni di persone, ci stiamo abituando come se questa cosa del Covid, della pandemia che abbiamo vissuto, ci abbia abituato, abbia spostato sempre più in là la nostra capacità di sopportazione di cose che non sono sopportabili. Adesso, ripeto, non spoilero quello di cui abbiamo discusso con Antonio Mazzeo, ma entrare a pie pari dentro una, come dire, attualità della bomba atomica, che poi chiamiamola uso tattico, chiamiamola come vogliamo, ma di uno scenario dove la Nato sta provando tutti i sistemi d'arma più sofisticati. I russi mandano al macello fanterie non addestrate, con leva e coscrizione obbligatoria, con 15 anni di carcere a chi non si presenta, con centinaia di migliaia di giorni che scappano dalla guerra. Dentro questo immaginario la diserzione alla guerra non è qualcosa che fanno solamente chi sta nei territori di conflitto, è qualcosa che noi non abbiamo saputo organizzare, costruire, dibattere. Siccome questo è un festival nel quale non ci dobbiamo mettere la medaglietta su nulla, ma anzi mettiamo dei problemi, ci ragioniamo insieme, abbiamo anche delle persone da tutto il mondo che ci danno una mano a ragionarci, forse questo è un interrogativo che nell'arco della serata noi dovremmo porci il problema. Ghedi, Aviano, due grandi depositi di bombe atomiche, Vicenza, una delle basi più importanti, la base, gli interventi che avremo dopo del movimento No Base di Coltano sono un'altra forma, il movimento No Muos, la nostra incapacità, non volontà, attenzione, ma anche noi quando scendiamo in piazza, poi chiudo, perché se no porto via troppo tempo, però è interessante nel dibattito, ci aspettavamo piazze di migliaia di persone, ci siamo confrontati con piazze di centinaia di persone. Allora, dentro questo io non credo che noi possiamo accontentarci della testimonianza di fronte alla guerra, come non possiamo accontentarci della testimonianza di fronte alla crisi climatica.